C'era una volta il domani, visione di futuro, capacità di guardare oltre. Oggi vogliamo ripartire da qui scoprendo la Vicenza che verrà tra idee, progetti e ipotesi. Apriamo una discussione che parta dai cittadini e arrivi alle istituzioni. Innanzitutto i quartieri, le periferie, le frazioni. A Polegge si aspetta una piazza con posti auto, spazi verdi e un anfiteatro per ospitare eventi e manifestazioni. E' anni che sento parlare di sta piazza, però stavamo discutendo adesso e è ancora lì. E' parecchio tempo che stanno lavorando. Finalmente sembra che è finita e siamo contenti perché avremo più posto per parcheggiare. Anche a Bertesina si attende una piazza, anzi qualcosa di più, un centro di aggregazione. E davanti alla chiesa di San Cristoforo è già tutto pronto. Siamo contenti di avere una bella piazza qua davanti a noi. Speriamo che ci porti anche un po' di lavoro in più, visto che abbiamo adesso un bel parco davanti. Magari una camminatina, poi un sprizzettino. Sì, contenti. Sì, sì, sì. Noi molto contenti. Polegge Bertesina sono due poli di aggregazione sociale, due luoghi in cui le comunità, delle frazioni potranno ritrovarsi, grazie anche a dei punti dove si può trovare, fare teatro all'aperto, dove ci sono giochi per bambini. Quindi due punti di riferimento importanti per le comunità. Ma la nuova città riparte anche dai parchi, a cominciare da Campomarzo. Davanti alla stazione ferroviaria potrebbe nascere un tunnel. È stata formalizzata una richiesta ad RFI per abbattere il traffico in superficie. Non sarebbe una buona idea a fare la struttura personale. In Piazzale dei Gasperi il progetto, con un accurato ridisegno della pavimentazione, prevede di collegare i giardini salvi a Campo non più Marzo ma Marzio, in modo da fargli recuperare il suo antico nome, come richiesto dai vicentini, a cui Rete Veneta e i liberi pensatori hanno dato voce con il questionario della rubrica Filo Vicenza. L'obiettivo è dare un nuovo rinascimento a Campomarzo. Anche nel nome ci può stare la modifica e questa è un'iniziativa di Rete Veneta che sposiamo. Questa può essere un'iniziativa su cui c'è un impegno preciso da parte dell'amministrazione. Nell'occasione, come proposto da Rete Veneta, si potrà anche raccontare l'arco perduto del Revese, magari con un segno a terra o dei fasci di luce, con alcuni arredi per la sosta. È una descrizione dell'antico monumento della Repubblica di Venezia. Un segno tangibile per terra oppure dei fasci di luce con dei fari che partono dal basso verso l'alto e che identificano la presenza dell'allora arco una volta demolito.